Cairate, siamo con Mauro Volpini, presidente dell'associazione sportiva Cocorodai, che ci spiega un po' la giornata di oggi al monastero. La giornata di oggi nasce a seguito della formazione all'interno della nostra associazione Cocorodai, che è un'associazione dedicata alle arti marziali, di un settore di cultura giapponese. Ogni anno promuoviamo diverse iniziative, l'anno scorso è stato promosso un corso di lingua giapponese, quest'anno iniziamo invece con una presentazione, un convegno sulla katana. Vuole spiegare anche com'è la disciplina, perché io per primo non conosco bene cos'è la katana. All'interno dell'associazione abbiamo circa 13 arti marziali, dalle arti marziali tradizionali agli sport da combattimento. Nelle arti marziali tradizionali, quali il karate, il judo, il aikido, ci sono dei praticanti che utilizzano la spada giapponese, la katana, dei facsimile in legno, perciò c'è all'interno di questi settori la necessità magari di ampliare la loro conoscenza storica e culturale della cosa. Dopo l'insegnante nonché presidente, ne parliamo adesso con Susanna Marino, che sarà poi la reatrice che porterà in porto la serata di oggi dedicata alle spade giapponesi. Sì, buongiorno. Innanzitutto sì, non è proprio sulle spade giapponesi, ma un aspetto delle spade giapponesi, un piccolo ornamento che ci aiuta a raccontare un po' delle leggende della tradizione e della storia del Giappone. Ma quanto è importante, non solo sotto l'aspetto sportivo, conoscere e sapere altre comunque non culture, ma altri mondi paralleli al nostro, anche non solo a livello sportivo? Beh, adesso credo voi pratichiate soprattutto karate o aikido, mi hanno detto, e quindi fanno parte appunto di un mondo, di una cultura che sta un po' agli antipodi della nostra e credo che conoscere altri aspetti legati appunto, è vero, a un mondo del passato, ma che si riflette ancora oggi, può essere sempre interessante per entrare più nello spirito forse di quello che si pratica. Ci diceva che ci sono anche delle leggende legate a questa disciplina. Ce ne vuole anticipare qualche pillola? Sì, certo, ci saranno delle leggende legate proprio a episodi storici, oppure a leggende dove i protagonisti sono gli animali, un po' come nelle nostre favole di Esopo, oppure poi vedrete perché ci sarà un indovinello finale anche per il pubblico. Serata sulle spade giapponesi e ne parliamo anche con Lucia Castiglioni che è il presidente del gruppo cultura nipponica del Kokoro Dai. Come siete partiti o meglio, come avete fatto a fare da Regame per organizzare una serata particolare e originale come quella di oggi? Allora, l'associazione Kokoro Dai che riguarda le arti marziali in generale è attiva sul territorio già da una ventina d'anni e l'anno scorso si è pensato di creare questo gruppo di cultura nipponica, dato che io ho studiato giapponese all'università e visto che soprattutto i praticanti di karate, aikido e le arti marziali giapponesi comunque hanno a che fare con la lingua e con la cultura giapponese, abbiamo pensato già l'anno scorso di fare un corso di lingua giapponese legata alla terminologia del karate, nello specifico. È un corso che è andato molto bene. Quest'anno invece abbiamo proposto questa conferenza sulla katana. La katana è la mitica spada dei samurai che bene o male incuriosisce sempre tutti, praticanti o meno di arti marziali. Così abbiamo contattato la mia professoressa dell'università che aveva già tenuto la conferenza nella città di Milano e le abbiamo proposto di venire a trovarci a Kairate. E così abbiamo creato questa giornata sulla katana che ha avuto un bel successo, direi. Nonostante il maltempo, infatti, la manifestazione è stata molto sentita e partecipata. Sarà forse il fascino della spada dei samurai, sarà forse che comunque l'associazione è ben radicata sul territorio. Sarà possibile poi replicarla anche prossimamente con altre manifestazioni o altri argomenti. Ne avete già fatto qualcuno in passato oppure cosa vi attira di più nella sfera degli argomenti futuri? Allora sì, anzitutto siamo molto contenti della risposta che c'è stata questo pomeriggio per la conferenza odierna. Le tematiche che hanno a che fare col Giappone sono vastissime, sono davvero tantissime. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Potremmo parlare di tutto di più. C'è l'intenzione di fare uno o due incontri annuali su queste tematiche. Quindi piano a piano potremo affrontare un po' tutto quello che riguarda il mondo giapponese e approfondirlo.